idwatch mail è una semplice utility attraverso la quale con un paio di click potrà inviare nelle mail dei messaggi vocali il programma si occupa di tutto registrazione compressione e anche invio della mail chiaramente utilizzando il tuo client di posta elettronica idwatch mail è in italiano ha un'interfaccia molto intuitiva ed è completamente free hai bisogno di solo del microfonino la descrizione per scaricare il programma la trovi in basso nella descrizione del video io già ho copiato il link la andiamo ad incollare nella barra degli indirizzi salviamo insieme sul nostro sul tuo desktop il programmino perché è una cosa abbastanza veloce leggerissimo desktop salva questo ormai non serve più possiamo chiuderlo questo è il software che dovrai lanciare io non lo faccio perché ho già provveduto a farlo prima ricordati di spuntare l'icona sul desktop cosa che ho fatto io lanciamo il programmino come vedi questo utility ha un'interfaccia molto intuitiva proviamo insieme a fare il primo test hai bisogno del microfonino anche se qua dice che vedi ci ci sono le casse ma non non è vero e col microfono si sente meglio il microfono si sente meglio il microfono si sente meglio ciao ti mando questo messaggio per salutarti a presto ciao stop salviamo il nostro messaggio ci diamo un nome sul desktop lo salviamo eccolo qua andiamo a sentirlo perfetto adesso facciamo anche la prova di inviare questo file nella mail apri la tua posta messaggio nuovo messaggio formato sfondo suono riproduci una volta due volte tre volte noi lo produciamo continuamente sfogliamo desktop test audio apri ok va bene l'idea te l'ho dato il tutorial è terminato grazie a tutti